salve a tutti youtubers in questo brevissimo video voglio annunciarvi che il primo febbraio 2016 dall'ora 17 30 sul canale dei gam giovani astrofili milanesi di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione ci sarà una live dove io sarò l'ospite ma non sarò l'unico ci sarà anche l'astronomo da campeggio kuiper avaut matior e anche link for universe il tema della life sarà il pianeta x e in generale i corpi celesti minori del nostro sistema solare situati nella fascia di kuiper quindi se siete interessati al riguardo di questo argomento insomma se avete domande per pressità dubbi al riguardo noi saremo veramente molto contenti di cercare di rispondere alle vostre domande o magari chiarire i dubbi quindi insomma ci fa molto piacere se venite e se ci seguite insomma sarà un bel pomeriggio da passare appunto tra idee ipotesi e queste cose qua insomma quindi lunedì primo febbraio 2016 ore 17 30 sul canale dei gam quindi vi aspettiamo numerosissimi ciao belli